Oltre 1.600.000 euro di contributi pubblici saranno stanziati a favore delle politiche giovanili in Sicilia, a seguito della recente approvazione delle graduatorie del bando per la presentazione dei progetti da portare a termine. L'iniziativa è portata avanti dalla regione siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono 24 i progetti selezionati per la categoria partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori e azione giovani e cultura. Riguardo alla prima graduatoria per cui è previsto un contributo globale di 833.000 euro, sono stati ammessi 12 progetti su 20 che otterranno in media circa 70.000 euro ciascuno. Tra questi cinque progetti ricadono nella provincia di Palermo, cinque in quella di Catania, uno nella Grigentina e uno a Serra di Falco nella nostra provincia. Sono otto invece quelli non ammessi o esclusi dal finanziamento. Per quanto riguarda la seconda graduatoria sono state ammesse e ritenute finanziabili 12 domande su 30 presentate. La dotazione finanziaria in questo caso ammonta più di 830.000 euro. Quattro progetti saranno finanziati a Palermo, due in provincia di Catania, tre in provincia di Enna, uno a Ravanuse in provincia di Agrigento, uno a Riesi in provincia di Caltanissetta e uno a Ragusa. Cinque istanze sono state ammesse ma ritenute non finanziabili e 13 proposte progettuali invece sono state dichiarate non ammissibili. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.